La polizia di Ragusa ha fermato cinque presunti scafisti che, secondo i testimoni, avrebbero condotto verso le coste italiane un'imbarcazione partita dalle coste libiche con 264 migranti a bordo, poi ospitati presso l'hot spot di Pozzallo per essere visitati e identificati. Gli investigatori della squadra mobile, con la partecipazione della sezione operativa navale della Guardia di Finanza e dei carabinieri della compagnia di Modica e Pozzallo, hanno sottoposto a fermo i cinque uomini di origini egiziane. I migranti hanno dichiarato di essere partiti dalle coste libiche due giorni prima dell'arrivo in Italia e di aver pagato in media 1.500 euro a testa. In un'altra operazione, la Guardia di Finanza di Agrigento ha bloccato un peschereccio che rimorchiava un barcone con a bordo 68 migranti nel canale di Sicilia e sottoposto a fermo i sei componenti dell'equipaggio per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Si ritiene che il convolgimento dei pescherecci sia parte di una nuova strategia dei trafficanti di uomini per trasferire i migranti dalle coste del Nord Africa attraverso il canale di Sicilia.